Continua la bufera attorno alla Fondazione Mida. Dopo il passo indietro di Dorilia e lo strappo con i comuni di Pertosi a Oletta, si è dimesso il comitato scientifico della Fondazione. I componenti, il giornalista Marco Panara e le docenti universitarie Antonella Minelli e Rosanna Alaggio, hanno lasciato l'incarico loro affidato a causa, si legge nelle missive, della congiuntura attraversata dalla Fondazione che non consente di svolgere con serenità il ruolo accordato. Già in precedenza aveva rassegnato le proprie dimissioni la docente universitaria Mariana Amato, per cui l'organo consultivo è da rifondare, mentre restano saldi al loro posto CDA e consiglio di indirizzo della Fondazione. Il nodo sulla presidenza rimane dopo la scadenza del mandato a febbraio e la lettera con cui Dorilia ha dichiarato la sua indisponibilità a ricandidarsi. La regione Campania dunque dovrebbe fornire un nuovo nome e a questo guarda il sindaco di Pertosa, Domenico Barba, a cui Dorilia aveva contestato la mancanza di posizione dopo la polemica sollevata dal sindaco di Auletta, Pessolano. Una posizione l'ho presa invece, ha detto Barba, il mio agire contempla due punti fermi, la comunione di intenti con Auletta, nella misura in cui si continui sul percorso intrapreso più di un decennio fa, e la Fondazione Mida, a prescindere dai presidenti, la mia stella polare e la regione Campania, alla quale ho consegnato il mio pensiero che non contempla nomi ma profili. Quindi sì al prosieguo della gestione che si è rivelata vincente per Barba, che da questo punto di vista, ma solo da questo punto di vista, è in linea con la petizione lanciata da un gruppo di cittadini che punta a sostenere la continuità del modello gestionale della Fondazione visti i risultati. La petizione, però, che è stata firmata anche da nomi eccellenti come Michele Buonomo di Lega Ambiente, il presidente delle grotte di Castellana, Vittor Casulli, i sindaci di Buonabitacolo e Atena, Antonio Pellegrino della cooperativa Terra di Resilienza e Teresa Rotella di Italia Nostra, bolla gli attacchi contro Dorilia come dettati da interessi personali e clientelistici e si oppone alla minacciata discontinuità gestionale. Quasi mille le firme raggiunte segno che la questione resta argomento caldo e divisivo sul territorio.